Buoni secondo. Prima ripresa. 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 Vai, 10 secondi, dai! Via adesso, dai! Vedi lì, è tu! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Seconda ripresa! Seconda ripresa! Seconda ripresa, non c'è tanta ripresa! Vai Marco, dai! Sì! Vai, vai, vai! Dai, vai! Dai, vai! Vai, 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 vai! Dai, piazza! Vai, vai! Vai, vai! Vai tu quel primo! Vai tu quel primo! Dai! Dai! Vai! Vai! Con il ritmo adesso! Con il ritmo adesso! Con il ritmo! Con il ritmo! Vai! Vai! Alta il ritmo! Sotto! Sotto! Bravo! Vai! 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 Continua! Bravo! Continua! È lì che devi il volo! Vai! È tutta scena! Vai! 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 Via! 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 È tutta scena! È tutto il primo! Ancora! 4, 4, 2, 2, 2. Vieni dentro le mani. 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 Vieni dentro. Continua, avanti, dai! Dai, sotto! Dai, vatte, dai! Dai, oh, destro e canto! Oh, chinesi, dai! Dai, dottomeni, dai, dottomeni! Dai, dottomeni, dai, dottomeni! Iber sûr tu. Quindi, sì, stai fostenuta. finisci dai finisci dai finisci dai finisci finisci dai dai finisci dai finisci dai finisci dai vai vai la non senti di vita la non senti di vita la non senti di vita vai 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 continuo avanti continuo avanti vai 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 goltta sinistra vai 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 sotto Grazie a tutti.